buongiorno ragazzi io come al solito sono bollito ma non c'è tempo perché devo andare a lavoro faccio proprio vedere la giornata tipo di un calciatore di promozione ho un grandissimo esaurimento in questo momento perché sono le sette e mezza di mattina però non si molla e stasera abbiamo il turno infrasettimanale giochiamo stasera alle otto e mezza in casa da noi per fortuna e niente adesso vado a lavoro ci vediamo tra poco visto che ho ricevuto alcuni commenti video delle partite della San Benedettese sto cercando di andare il più possibile adesso uscirà un video forse è già uscito quando uscirà questo video della partita contro il Fossombrone quindi andate a vedervelo comunque adesso basta parlare perché sennò non arrivo più e ci vediamo dopo almeno c'è pure il sole oggi e speriamo che non sia troppo freddo fin quando qua non si muovono a fare sta rotonda purtroppo c'è sempre un traffico clamoroso oggi sto impattendo adesso sto portando giù tutta sta roba qualcosa caricherò sul furgone direi che per questa mattina è tutto ci vediamo pronto ragazzi mi sono tornato a casa tra due ore intanto mi faccio una partitina tra due ore c'è la convocazione allo stadio sono sereno ora gioco un po' a fifa mi rilasso così e ci carichiamo per la partita di stasera tra l'altro ho una felpa storica quasi ci vediamo direttamente tra due ore in macchina per andare alla partita e con il buio delle sei e mezza sto andando al campo anzi prima da prendere un mio compagno mi sono caduto all'airpods e poi andiamo al campo il culo più bello di tutta la romagna 10k più no adesso magari ogni volta fare questa strada con il buio sembra l'inizio di un film horror già provo ci sei detto che fai? ci sei detto che fai? per chi? per il mio fan numero uno è il suo doppio lo civile per il rio il L'OMB la gioia la gioia la gioia è inizio la gioia è inizio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.